benvenuti su FIFA 17 vogliono sfidare il tuo giro e vuole sfidare il papà abbiamo fatto un torneo a tre io ovviamente ho preso una squadra con una feconca di Napoli si però no ma facciamo un dio oppure una partita poi stacchiamo quella certo dopo un'altra partita dopo spassiamo hai già visto il cilindro eh perché voglio insegnare eh tu capito però le ho messe ah non fa manovra ma mamma mi vuoi? no è il solito no è il punto allora prima di tutto fermiamo subito perché io ho bisogno di fare un quattro quattro due ma scusa infortunato c'è un paio di rini ehm quattro due eccolo ok siamo pronti oh 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 mi metti sei infortunato a me una eh a me eh a me eh a me non è quanto male sei infortunato sei infortunato la sua a camminare che è il capitano guarda sei infortunato io metti vai io voglio guardare quello suo non ti preoccupare io che stai facendo tu? mamma mi dì io non mostro io non ti dì aspetta le ho messe le ho messe ah è messe merci faccio rego oh non vale fuori gioco hai visto tuoi ragazzi diciamo che i bimbi giocano meglio di me perché? ma io ho più tattica ecco che avanzo ecco che me ne vado dritto vedo ecco un filtrante per faccio una curva faccione ecco passaggio scendo in aria tiro forse eh ma tu hai richiato il cambio stico che ho fatto sto chiedi chissà eliminato ma devi tirare i colli devi tirare i piani e cagliare i coni no era giugino era giugino era giugino era giugino era giugino sono infortunato gabbiatino ma come sei infortunato su fratello? eh no perché ci ho fatto il fallo con picchetto ho picchetto? ho picchetto grazie ho rischetto parte leo parte leo è la roba un dragone parte leo pensavo lui c'era la roba ma te ne vanno su perché stanno regnando per questo vedete voi ti lavori su? ho visto che non è giusto? aspettate è stato un sopplico Manolo lo so eh attacco attacco destro ma io mi chiedo che Manolo andava a scuola gabbiatino eh allora dove hai questo? no ma non devo dire le gabbiatine metti ma a me Chepet a me chepet vai va 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 oh lecce ca se chi la ciotola che cosa vuoi fare? vai ma che si? oh ha giocato ehi chi stai scelto? ma non fai tutto un pochino eh caravano di duc vai vai no lui ci vuole ehi chi è questo? ehi ehi va buona no mamma mia questo portiere è la ruina è uno scemo ma che sa? ma che si ma che neanche zancio faccio? C'è giù come rudeo Ma l'ho albiccio l'alte Ma l'ho albiccio l'alte Invece che un becganza ci vanno E' un maghiettino E' verde Verde, grazie Oh, che sei un angelo E' fatta E' mare E' l'accio Ma se c'era io Io non c'era un bar Ma non Ci attacca Sì Però zia Ciro è più forte Zia Ciro A boh A boh A boh Ma Ma C'è Dove è un attacco troppo No 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 Ma C'è C'è Caprocchese E' più bello C'è È un attacco No Ma che tira La mostra Ma 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 non lo so però sai come non me l'hai fatto sei come? no no non tocca niente non voglio prendere niente ma non voglio farlo ho fatto non è vero ah non sei come l'hai fatto gol fedecchia 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 ma con sei bravo a dire guarda il piano tagli i volci guarda lascia ragazzi davanti alla maestra no? maestra ho sbagliato ah dai ieri ha ci-mi trochi iubi 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 tiubi iubi io iubi 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 rau appena tira faccio appena tira Alessandro questo modulo il modulo tuo a me non mi piace a me non mi piace 433 perchè va più grassi senza che tu capisci 433 non mi piace non passa allo straniero non passa allo straniero c'è un saurino un commento di ovino questo se non stai attraverso apposta non lo so stai a fare la metà di avaraccio che fa più la metà di avaraccio la belemma attraverso è conciliata l'araccio è nata attraverso questo cosa sta avendo? l'ha ruvato il cammino quando la stanno ne vanno si amano ciò ciò ma la stanno ne vanno ciò ciò l'ho con la stessa ma che ci sei mangiato? tu puoi stare in peggio? fatto bene tu sei sbagli sempre madonna! madonna! il grasso! sentite il grasso il grasso lo devi usare solo non leggi ehiiii no c'è ehii garrito ehii caiecone ehii capiecone ehii 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 oh mamma se pareggiamo che facciamo ci mi zeppano pareggiamo e pareggiamo che facevo? il zenzero è flacottino e però quindi chi? un punto e il punto e chi andrà contro? il schiume adesso no ma poi ce lo vuole ma chi vince? pareggio il zenzero che vince? ma se il pareggio solo hai fatto un punto ma quali ricordi? l'appunto ho detto perché è frutto? frutto hai fatto il zenzero, basta poi sei convinto che è frutto il zenzero per te? no no io non dirò a giocare no io non dirò a giocare a giocare agli anghii no però io sono equilibratissimo che rassare ma ci hai fatto più di rapporto guarda qua questo è come prendere la parola, guarda subito la parola se non mi sbaglio è la candela che odora insigne no ma io adesso è male che faccio ma non usci ma non usci ma non usci grazie le ho messi le ho messi C'è il tiro di Messi GOOOOOOOL Eva Lachiccio Ci mancava lui Eva Battilo qui Lachicci Chiuppu Chiuppu C'è tutto si Tutti i brioche Che cosa? Allora dovete vendere 100.000 mi piace Si come ti mi piace Ma no Guarda che se l'ho visto La vediamo troppo Io se l'ho fatto con me Non faccio capire mai E' morto Guarda la potabile Allora 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 Ammazza Adesso ho rotto il gatto Alba Alba Chi sa? A Giorgia Mi piace I Mijic Mi 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 ah, l'ho ucciso ancora te sei vabbè, non è che l'olica io mi carino, io mi armi ma giusto, andai a volta, giusto ancora, te sei egli è l'olica, eh non lo vede, non lo vede il fanno non lo parli questo qua signora oh non l'ha tutti la scala di uscuna non l'ha scala e fallo non lo vede non lo vede ragazzi mi hai rinacchissi lo stesso suonatore lui suonare lui suonare l'ho detto io no non si fanno l'ho detto io l'ho detto io no si scalda tutti la prossima partita è quella là contro stefan ecco vinco io ovvero tu vinci e vai contro di me se io perdo vado contro di mio padre se tu perdi vado contro di mio padre ovviamente se io vinco poi vinco con te poi tu vinci con tuo padre non fatti non fatti non fatti non fatti non fatti non fatti perché tu già vieni a perdere non fatti non fatti niente non fatti non fatti vieni vieni racchietic ma vieni ... una... ...tira dopo dopo domani Del stegue del stegue ho fatto un po' domani c'è un maschio dopo domani dopo domani dopo domani dopo domani occhio cercano di rigore MADO è te è te andiamo a comandare andiamo a comandare con del mare con del mare con del mare qual è la parte nel locale andiamo a comandare mamma mia Reina Reina una papera non riesci a parlare oggi ha troppo sonno eh venga Alessandro aspetta adesso faranno un'altra partita loro io ho perso mi ritiro nooo c'è un'altra intanto me ne va un solo a tutti dopo ritornerò io Napoli forse se vincere vabbè infatti ciao ciao ciao